Hanno trovato le parole il giro di note giusto e cinque vincitori del progetto musicale mai in silenzio contro la violenza di genere realizzato dall'emittente radiofonica Controradio insieme alla regione toscana nell'ambito del progetto Giovani Si per l'autonomia dei giovani e presentati a Firenze insieme al CD che riunisce le loro canzoni. Si tratta di Frigo da Firenze, primi classificati con il brano Leoni da Cortile, Giada Bernardini dall'isola del Giglio con Come la pioggia, Fogg da Pisa con Tutti tranne me, Diari della fine da Lucca con Piccolo così e Gio Mannucci da Livorno con La ballata dell'amore malato, la musica come linguaggio dell'impegno sociale. È un linguaggio che loro praticano, praticano come utenti ma anche come produttori, allora indirizzare la produzione verso tematiche sociali ci sembrava una sfida importante e mi sembra che stia andando nella direzione auspicata. Sono state oltre 100 le domande di partecipazione al concorso che ha visto in giuria musicisti di fama come Irene Grandi, Dario Brunori, Francesco Guasti, Diana Winter e Tommaso Novi che ha sottolineato la grande varietà di generi musicali proposta. Di tutto, rock band e progetti con ensemble d'archi e voci, quindi vuol dire che tutt'oggi c'è un grande fermento e se si vanno ad intercettare le persone che hanno voglia di fare, di costruire e di scrivere canzoni ancora si possano fare operazioni di successo. Impegno sociale per denunciare la piaga della violenza di genere ma anche una spinta ai giovani talenti toscani della musica. I primi tre vincitori potranno infatti realizzare le proprie produzioni musicali con budget da 3.000 a 1.000 euro e potranno esibirsi in concerti come il Beat Festival di Empoli e il Metarock di Pisa. L'idea appunto è quella di far circolare il più possibile questi brani perché appunto poi le platee di giovani che magari sono davanti ad un concerto possano interrogarsi su questo tema. I brani vincitori del concorso parteciperanno anche al progetto Toscana in Spot del Corecom Toscana per la produzione di video e spot radiofonici sul tema della violenza e del corretto rapporto tra i generi. Grazie a tutti.